È fondamentale garantire consapevolezza e informazione presso tutti gli utenti internet perché bisogna conoscere internet, tutti lo utilizziamo, offre grandi opportunità ma è necessario che tutti lo conoscano. Come capita per navigare nel mare, si prende la patente nautica, per navigare su internet occorre avere consapevolezza, conoscenza e quindi è fondamentale garantirla perché bisogna conoscere opportunità e rischi di questo strumento per farne un utilizzo consapevole.